Siamo di fronte a delle vasche obsolete, con impianti obsoleti, che non hanno avuto le giuste cure per poter essere in piena efficienza ed efficacia. Da qui tutte le conseguenze. Succede che in un impianto vecchio, datato, la manutenzione ha lasciato sempre a desiderare. Succede dunque che questo impianto vecchio, anno dopo anno, presenta il conto, presenta problemi difficili fino a dover essere chiuso per una manutenzione. Succede poi che interviene il PNRR, arrivano i fondi e finalmente questa manutenzione si può trasformare in ristrutturazione. Succede dunque che si decida, dopo un confronto anche con le società sportive che nella piscina comunale di Palermo abitano, gareggiano, che venga l'idea di costruire una vasca provvisoria, una piscina provvisoria nel famoso pallone, quello che fu la sala stampa dei mondiali d'Italia nel 1990, che si faccia un preventivo di circa 3 milioni e mezzo. Succede però che questo preventivo è sbagliato e che si scopra solo dopo diversi mesi che in realtà una vasca provvisoria nel pallone costa più del doppio, quasi 8 milioni di euro. La mia sensazione è che a fronte di una situazione di emergenza, quale è quella in cui siamo, non ci sia stata la giusta reazione. È normale che di fronte a una difficoltà così imminente come può essere la chiusura dell'impianto già dal mese di aprile, e aggiungo che nella prima idea l'impianto doveva essere già chiuso dal mese di giugno di quest'anno, poi hanno rinviato perché mancava il progetto esecutivo, bisogna rispondere con lo stesso tipo di logica, ovvero sia in maniera assolutamente emergenziale. Non c'è motivo a mio avviso di mettere in atto una progettazione complessa e ampia. Palermo in questo momento ha bisogno di una vasca in cui si possa notare, che funga da backup temporaneo rispetto al problema che le vasche verranno chiusi per i lavori. Secondo me si sono fatti un po' prendere la mano, aggiusta quello, aggiungi quello, modifica, sistema eccetera, per realizzare un impianto più importante e più significativo, perdendo di vista l'obiettivo, ovvero sia avere una vasca già nel mese di aprile e l'anno prossimo. Allora succede che imprenditori che hanno scommesso sugli sport d'acqua, sulla pallannuoto, società che tramite questi imprenditori abbiano raggiunto anche livelli mai immaginati a Palermo, la Serie A, le coppe europee e dopo aver speso tanti soldi siano costretti a un bivio. Cosa succede quando la piscina comunale chiuderà i battenti e la vasca provvisoria non sarà pronta? Si dovrà magari addirittura abbandonare il sogno e mettere un lucchetto a qualsiasi ambizione, che non era più velleità, era una vera e propria ambizione di avere sport d'acqua a livelli nazionali e internazionali, anche a Palermo.